...e dice non è giusto però, guardate che questa frase... Lei è un uomo che ama impegnarsi soprattutto quando sono in gioco la libertà e la giustizia, ma anche la decenza morale e mentale. Ci sono dei grandi valori in cui si crede, a cui si dedica nel limite del possibile una vita e sono questi valori di libertà, di giustizia e anche di decenza morale che è importante perché contribuisce a formare lo spirito pubblico di una nazione, di una città. Oggi la frase, la legge uguale per tutti, sembra non funzionare. Credo che non abbia mai funzionato molto in Italia perché l'Italia ha un problema di legalità, ha un problema rispetto agli altri paesi di cultura della legalità, gli altri paesi non sono immacolati ma è inutile che ci giriamo intorno, il livello di corruzione e di mancanza di rispetto per le leggi in Italia è più alto e va affrontato con delle attività educative che sono più profonde e più incisive. La domanda che mi faccio io con questo, la legalità è un sentimento, è qual è il modo migliore per radicare il principio di legalità nella nostra vita. E crede che esistano ancora dei valori veri radicati nella popolazione italiana dopo tutto quello che è politicamente successo in questi anni? Io posso dire che ogni anno faccio più esperienze perché ho più insegnamenti con gruppi di studenti diversi e non trovo difficoltà a recuperarli questi valori. E come si può costruire oggi il famoso conflitto? Il conflitto è fondamentale per una democrazia e d'altra parte il conflitto tra padre e figlio è un conflitto che fa crescere sia il figlio sia il padre. Pensare che una società non ce ne debba essere è assurdo, non è utopia, è proprio assurdo. Un conflitto regolato aiuta una società a trovare una legalità più alta.